Allora, buonasera. Siamo alla penultima giornata del Poesia Festival. È una giornata di qualità poetica molto alta, della quale noi del Comitato Scientifico siamo molto soddisfatti e onorati. C'è una defezione. Il quarto poeta, Giovanni Ibello, non può essere con noi e quindi sono tre i protagonisti della lettura di stasera. Sono tre poeti molto diversi tra loro, come in genere facciamo nei nostri cocktail, che non sono affatto casuali, ma sono invece molto pensati, insieme col direttore Roberto Alperoli e con l'altro compagno di avventura, il Comitato Scientifico Roberto Galaverni, che ci saluta da Berlino. E sono cocktail molto pensati e molto filtrati. Io poi, che come sapete sono anche un appassionato di cavalli, di corse, valuto molto la forma, lo stato di forma dei cavalli. E quindi cerchiamo in questi cocktail anche di chiamare dei poeti e delle poete in forma, cioè dei poeti e delle poete che sono in una fase ascendente del loro lavoro e della loro scrittura. E cerchiamo di evitare quelle voci che invece magari hanno avuto riscosso una certa attenzione all'inizio del ventunesimo secolo, ma che stanno un pochino ripetendosi. Questa è un po' una scelta che il Poesia Festival fa nella lunga storia, ormai siamo alla diciannovesima edizione delle sue manifestazioni. Allora adesso apriamo con Tiziano Broggiato, che è anche un amico, oltre che un poeta molto bravo, che ha un'origine nobile sul piano della sua provenienza, perché viene da Vicenza. Vicenza è una città nel Novecento letterariamente molto alta. Mi sembra che anche Guido Piovene venisse di lì. E soprattutto quello che io considero, e che anche Giovanni Giudici con me considerava, uno dei grandi protagonisti della poesia novecentesca, a Fernando Bandini, Vicentino Doc. Bandini è stato un grande poeta in italiano, un grande poeta in dialetto, un grande poeta in latino, sulla scia di Pascoli, e anche un grande intellettuale e critico di quella corrente che si definiva stilistica, ha insegnato proprio stilistica all'Università di Padova. Era anche un caro amico ed era una di quelle persone con un'alta responsabilità del suo lavoro poetico, che però era assolutamente umile nel rapporto quotidiano, e molto gentile, molto aperto, molto disposto a condividere il suo lavoro poetico. E Tiziano Broggiato, che è poeta diversissimo da Bandini, sul piano delle poetiche messe in campo, è come lui, con questa apertura, con questa disponibilità, che è manifestata anche dal fatto che lui è anche un curatore di antologie, anzi il suo debutto, debutto ad alto livello, è con un'antologia nel 1988, Canti dell'universo, 12 poeti italiani degli anni Ottanta, uscita per Marcos e Marcos, che poi negli anni successivi si è confermato come uno degli editori più importanti della poesia italiana, più di alto livello. Inoltre, io sono anche affezionato personalmente, legato a Broggiato, nella sua veste di lettore e, in qualche modo, di antologista, per due libri successivi, molto recenti, che sono tutti dell'editore, a cui appartiene anche il libro di poesie, su cui ci concentriamo oggi, Luigi Pellegrini, di Cosenza, che fa, peraltro, dei bellissimi libri, per il quale ha curato due antologie di poetica, possiamo dire così, Le città dell'anima, i luoghi dei poeti, nel 2017, e poi I padri della parola, che è dell'anno scorso, del 2022, alla quale ho partecipato anch'io, con qualche pagina dedicata, appunto, a uno dei miei maestri di poesia, appunto, Giovanni Giudici. Come poeta, la sua storia, diciamo, importante e principale, comincia nel 2001, comincia con il nuovo secolo, con Parcalux, anche qui c'è del latino, edito da Marsiglio. Vedete che gli editori di Broggiato sono tutti editori importanti, è uno che, appunto, pubblica con case editrici di diffusione decisamente nazionale, poi ha partecipato all'Almanacco dello specchio, numero 3 del 2007, c'è un libro per Marietti, prima, anticipo della notte, c'è questo che ho portato con me, perché appartiene a una collana molto nobile della poesia italiana, di H. Book, con la quarta di copertina, siglata RM, che è Roberto Mussapi, cioè il direttore stesso della collana, La città alla fine del mondo, poi c'è un altro libro importante, fatto per Pequod, quello da cui il profilo internet di Broggiato riporta il maggior numero di poesie, di cui mi piace moltissimo il titolo, Preparazione alla pioggia, uscito nel 2015, e poi c'è il 9 lunio per le edizioni di Pordenone Legge nel 2018. E poi è arrivato, proprio a gennaio del 2023, e, ripeto, siamo stati subito molto decisi nell'invitare Tiziano a questa edizione del Poesia Festival, è arrivato questo sorvoli, questo sorvoli per Luigi Pellegrini, che è un libro veramente importante, veramente... Adesso, usare la parola pietra miliare, non voglio esagerare, non voglio sembrare un fan a tutti i costi, però, insomma, è un libro, oltretutto, che va molto increscendo. Credo che nel risvolto nella seconda di copertina, che io ascriverei a Broggiato stesso, ci sia questa divisione in tre nuclei, il primo, idealmente, perché non è intitolato così nel testo, i fantasmi di ognuno, il senso dell'incompiuto, la seconda, che si avvale, ed è poi la quarta parte del libro, se non ho contato male, e per me è un testo veramente bellissimo, il sonno di Lindbergh, dove c'è questa oggettivazione del punto di vista in questa vicenda dell'aviatore Charles Lindbergh, che fu il primo nel 1927 a sorvolare, appunto, l'Oceano Atlantico dagli Stati Uniti in Irlanda e in Europa. E poi va veramente increscendo, perché le parti, e lo dichiaro, poi magari gli faccio anche qualche domanda e vorrei anche citare qualche verso, il quinto, il sesto, il settimo capitolo, che non hanno titoli specifici, sono sezioni di libro di straordinaria qualità e di straordinaria tenuta. Lui le intitola idealmente L'uomo confuso, e quindi sono anche testi in cui c'è questo soggetto preda della confusione. Mi piace molto che tu, al posto delle parole più diffuse, la crisi, l'ansia, la psicosi, questi aggettivi che vengono tutti dalla cultura esistenzialista, abbia usato questa metafora dell'uomo confuso, dell'uomo in confusione. Mi sembra che tu abbia molto azzeccato la cosa. C'è addirittura una poesia, dopo leggerò i versi che la riguardano, dove si parla di Gerusalemme, sembra una poesia che sia stata scritta ieri sera, stanotte, perché è molto attuale, c'è una carica quasi profetica dal sonno di Lindbergh in poi. E quindi niente, è un gran bel libro di poesia, molto compatto, broggiato a una qualità che quando scrive in versi, scrive poesia, che poi è la cosa che gli riesce meglio, scrive versi che sono davvero versi e non sono pezzi di prosa disarticolata in cui si va a capo perché si è obbligati ad andare a capo per far vedere che siamo dentro il genere poesia. E quindi c'è questa tensione stilistica, questa ricerca linguistica molto forte, broggiato non è mai banale, non usa mai parole qualunque, non usa mai formule scontate, scontate e ovvie. E quindi c'è anche una radice di poesia non immediatamente legata al quotidiano. Lì ha ragione Musapi nella quarta di copertina delle città alla fine del mondo, perché non ha ragione, secondo me, quando tira fuori la categoria dell'ermetismo. Broggiato non è un poeta ermetico secondo i canoni e i crismi dell'ermetismo, però è un poeta giustamente complesso nell'intreccio e nella sintassi. Insomma, leggere la sua poesia passa necessariamente per un esercizio di rilettura, non è una cosa che tu così puoi bere tranquillamente due sorsi d'acqua pura, va giù, l'hai già capita, hai perfettamente collocato, broggiato. E con questo gli do la parola, lo invito a leggere molto, a non essere avaro di sé e delle sue letture, poi io gli porrò magari un paio di domande, gliele porrò leggendo due o tre suoi versi e dandogli quindi il la poi per una seconda fase di lettura. E' un poeta originale, è un poeta per cui io, sì, ci sono ovviamente le grandi tradizioni del Novecento in lui, quindi però non onorate come canoni, ma appunto come trampolini, come slanci. E poi a me piace molto il titolo di questo libro, Sorvoli, perché mi ricorda che la parte più interessante e originale del secondo futurismo è proprio quella degli aeropoemi per molti aspetti e soprattutto di pittori, lo mise molto bene in rilievo alla mostra che ci fu una decina di anni fa al Palazzo Reale di Milano sul futurismo inteso come movimento generale, quindi compresi gli anni 30, pittori come il modenese Prampolini e come dottori che proprio dipingevano questa realtà vista dall'alto, la nuova estetica dell'aeroplano che sì, è cominciata con D'Annunzio, ma ha avuto poi degli sviluppi anche molto interessanti. Quindi questi Sorvoli sono una sorta di mondo dall'alto che sfugge anche al semplice punto di vista dell'io sensibile che è comunque nascosto all'interno della narrazione. Quindi complimenti a Tiziano Broggiato per questo suo ultimo libro che secondo me è un vertice della sua storia di poeta e quindi gli do la parola e lo ringrazio di essere con noi stasera. Grazie Alberto. Buonasera. Mi fa piacere che Alberto abbia citato Fernando Bandini, mio concittadino e mio primo mentore e l'ho conosciuto da giovane quando avevo 30 anni e l'ho sempre ritenuto un mio maestro anche negli ultimi tempi anche quando con la sua poesia mi ero un po' allontanato. La conoscenza fu piuttosto aspra però perché vi racconto brevemente. Gli proposi, era mio concittadino, di farmi un'introduzione a una raccolta di poesie che avevo ultimato e volevo pubblicarla e gli dissi se voleva così valutarla e nel caso fosse ritenuta positiva se mi faceva questa introduzione. Lui mi disse dammi pure che leggo. Un paio di mesi dopo mi convocò a casa sua con il suo affare piuttosto aspero ma anche generoso e mi disse guarda, ho letto, c'è dell'ispirazione c'è anche della bravura ma insomma tu come tutti i giovani poeti di questo tempo vi assomigliate un po' tutti siete come i cinesi naturalmente ci rimase piuttosto male lui mi disse non devi seguire o emulare i poeti a cui ti ispiri ai giovani poeti che sono più noti di te e che frequenti trova la tua identità nell'ispirazione lo ascoltai naturalmente dopo qualche mese gli riproposi i testi rivisti e corretti e lui molto bonariamente mi fece questa introduzione anche se non era secondo me totalmente convinto mi parlò dell'ispirazione parlandomi facendomi leggere il testo dell'accettazione del premio Nobel nel 1995 a quel punto di Simusini il quale a un certo punto afferma che lui si era accostato tutto il mattino al suo scrittoio come un monaco si accostava al suo inginocchiatoio e mi diceva devi seguire questo esempio scrivi solamente quello che ti convince non andare in cerca di trovare spunti dagli altri poeti scrivi e poi rileggi e poi correggi sarò sempre grato e su questo argomento sull'ispirazione ho scritto una poesia che vi vorrei leggere la comune vocazione siedo in una stanza con le tende abbassate nella penombra riesco a malapena a leggere lo svedese che ho portato con me non ho fretta né sete a tratti mi squadra di sbieco il monaco di rimpetto piegato sul suo breviario avrà già pagato il suo debito avrà fatto quanto poteva per la sua lingua sapendo che in cambio avrebbe avuto solo silenzio il premio tardivo è un annuncio di fratellanza l'alba tracciata dal volo di una lodola fede e poesia ricominciamo entrambi continuamente da capo perché ciò di cui disponiamo si rivela a volte una finzione e il desiderio di verità ci opprime arrivando poi al libro sì Alberto ha detto giusto è suddiviso in tre in tre capitoli tre capitoli ideali perché in verità le sezioni sono ben altre ma non sono segnate con titoli nella prima cerco di sviluppare la mia idea sul ramarico sul ramarico che credo ognuno di noi abbia di qualcosa che nella sua vita non ha percorso ci sono stati per tutti quanti dei momenti in cui a un bivio abbiamo scelto la via più semplice la via più opportuna quella meno difficoltosa e il ramarico è quello di aver tralasciato probabilmente una sorta una traccia di vita che avrebbe potuto cambiare la nostra vita che avrebbe potuto darci altre soddisfazioni o anche altri o anche altri imprevisti però insomma sarebbe stato opportuno percorrerla ciò succede il ramarico per la vita comune per l'amore per il lavoro ma anche per l'arte anche per l'arte c'è c'è sempre un ramarico e posso raccontare anche qui un piccolo episodio che mi è successo nell'arte e racconto questo io il secondo libro volevo pubblicarlo con un editore più capace del primo più diffuso insomma è un amico molto noto un poeta molto noto mi disse lo faccio leggere a Crocetti a quel tempo ma anche adesso Crocetti era un approdo sicuro anzi una sorta di benedizione per iniziare a pubblicare poesia da lì sono passati i primi libri di Lamarck della Nedda per esempio e mi disse magari ne sarai felice un paio di mesi dopo mi chiama questo amico e mi dice guarda Crocetti l'ha letto e ci invita a pranzo addirittura a pranzo ne ero felice perché sapevo che Crocetti ha sempre avuto un carattere piuttosto fumino non era una persona semplice con cui dialogare e andiamo a sto pranzo molto felice fu un momento conviviale armonioso di grande partecipazione cordialità e mi disse a un certo punto guarda il tuo libro mi è piaciuto lo facciamo l'anno prossimo tra un anno e naturalmente fu una grande gioia continuiamo il pranzo però a un certo punto mi prese quella fregola dell'eccitazione e mi fece commettere un errore che ancora rimpiango perché richiesi ma senta Crocetti fra un anno non si potrebbe farlo prima il mio libro e da quel momento scese una freddezza nei momenti in cui stavamo così dialogando che si conclusi in fretta il pranzo e ce ne andammo abbastanza rapidamente e l'amico mio mi guardò con uno sguardo che mi che mi intimidì che mi fece capire di aver fatto un grossissimo errore nonostante questo un paio di mesi dopo presi il coraggio due mani e telefonai a Crocetti gli dissi senta Crocetti mi perdoni quell'uscita improbabile sono stato sgarbato guardi faccia come credi fra un anno va benissimo e lui mi rispose guarda sto un po' rivedendo i programmi e ti farò sapere e sto ancora aspettando in ogni caso su questo argomento sul ramarico della vita su ciò che abbiamo lasciato e non abbiamo intrapreso ho scritto questa questa poesia che poi è l'ideale titolo della prima sezione i fantasmi di ognuno finirà che a luce spenta scenderò anch'io sotto la linea di galleggiamento fin dove i miei spettri non potranno essere intercettati i tuoi più scettici nemmeno si sono affacciati troverò correnti impetuose laggiù e le malie che il corno d'argento diffonde a oltranza i tuoi passi percorreranno la passerella costellata di lampade dondolanti mentre io in apnea sarò intento a dissolvere le bolle esalate da qualcuno che sul fondo nonostante tutto sta affogando in queste acque infestate tu potresti svenire per il dolore meglio che continui a immaginarmi come un vecchio predone allora mai colto sul fatto e sfiancato imbolsito da una sopraggiunta manifesta stanchezza l'idea di questo libro comunque è anche percorsa dalla mia intenzione dal mio tentativo di umanizzare le cose la natura tutte tutte le sfaccettature della natura dando loro con metafore che possono sembrare anche azzardate sentimento emoto e anche parola per esempio spesso io la mattina quando posso faccio una passeggiata lungo l'argine di un fiume che non è lontano da casa mia e mi ritrovo qualche volta a parlare a parlare a questo fiume che mi risponde borbotando sempre la stessa anemia però qualche volta immagino penso che mi possa anche rispondere ho scritto una poesia un giorno in cui riflettevo su quel che avevo sentito quasi prima parlando con degli amici uno dei quali ha una domanda precisa e cioè ma era posta per scherzo perché diceva presto a poco così tu ti sentiresti pronto per il Nobel tu potresti aspirare al Nobel ma ripeto era scherzosa e lui mi rispose compito e certo e mi disse ho tutte le carte in regola per vincerlo e lì sono rimasto perplesso perché penso che venendo da un'era in cui abbiamo avuto dei giganti della nostra poesia e le riferisco per esempio a Sereni a Luzzi a Giudici stesso immagino che i poeti di oggi quasi tutti i poeti di oggi di loro non rimarrà traccia nei prossimi anni non è un'idea pessimistica ma è un confronto lucido che ho fatto con quanti ci hanno preseduto e vorrei leggervi questa poesia su questo discorso con il fiume che si intitola Dialogo sull'immortalità cammino costeggiando un torrente che canta sempre lo stesso motivo a bocca chiusa arte e vita le sue scatoliscono tra piete e arbusti le mie spesso dalle molte volte in cui mi ha ingannato la speranza dal fondo della strada avanzano due sagome evocanti la loro verbosa immortalità Cesare e Lincoln accomunati dal sic sempre tirannis proferito dei perfidi alleati altri aspiranti patres patri si profilano nell'ombra cantori artisti imbonitori provenienti da un alto piano che non conta che minuscoli instabili pinacoli ci credi mi giunge dall'acqua nell'ansa in cui si increspa e vira non so riconoscere tra i viventi nessuno che possiede il fervore per entrare nella Saint-Chapelle in verità convengo si tratta di dolenti convinti che la loro voce possa unirsi al coro dei morti giganti ma l'ombra del precedente si allunga anche su questo secolo curvo insicuro e scevro di rimandi perfino Cesare quasi certamente colpito sciacassiò senza dire nulla nella seconda parte del libro in cui parlo della solitudine ho preso come spunto come diceva Alberto del volo leggendario di Charles Lindbergh che per primo volò da New York a Parigi un'unica soluzione il primo a trasvolare l'Atlantico questa è l'esaltazione della solitudine di un personaggio che viveva solo per se stesso e che qui raggiunge il suo acme e l'ho intitolato il sono di Genova per un semplice motivo perché lui in previsione di fare questo volo che durava 35 ore presso poco aveva preso un posto di poter riposare la notte precedente per essere fresco la sua impresa se non che quella notte non riuscì a chiudere occhio perché il pensiero di quello che stava per fare e poi un meccanico che alle 4 venne a chiamarlo perché c'era un'inesia in fondo da rivedere non chiuse occhio se che il mattino seguente partì in volo e il suo grande nemico fu il sonno tanto che dopo 20 ore di volo disse avevo gli occhi le palpebre dure come pietre e si inventò di abbassarsi a livello dell'oceano aprendo la carlinga per farsi arrivare degli spruzzi d'acqua in volto e mantenersi sveglio ma nemmeno questo successo ebbe successo con lui il sonno era prepotente lo salvò uno spettro benigno lo chiama lui che si sedette a fianco a lui nella carlinga per parlargli lo tenne in colloquio oltre un'ora lui gli parlò come se fosse veramente una persona e quello lo risvegliò e gli fece concludere il suo leggendario volo oltre a 20 anni dopo la sua impresa raccontò che forse era venuto un angelo a salvarlo lui così agnostico ed ecco il motivo per cui c'è il sonno di Lindbergh beh è ramento che per esempio anche altri personaggi parlarono della loro solitudine in maniera precisa per esempio ricordo un Samuel Beckett che disse io sono un assiduo frequentatore della mia vita privata appena appena attigua a quella degli altri perciò c'è chi vede la solitudine come un flaggello e chi evidentemente la esalta io stesso credo di aver vissuto sentendo parlare del covid della clausura che ne conseguì moltissimi si sono lamentati perché non hanno avuto contatti la vita sociale che prima prima avevano normalmente e invece mi ricordo che la giornata mi era distribuita così la mattina un'ora a girare a camminare nei quartieri attorno a casa pomeriggio un'altra ora salire e scendere i 30 gradini che mi conducevano al mio appartamento il resto del tempo era dedicato alla lettura e alla scrittura e molte poesie di questo libro sono nate in quel periodo infatti perciò al di là di tutta la tragicità che lo ricorda quel periodo per me fu anche benigno su certi punti di vista per la poesia almeno ma del poemetto vi voglio leggere l'inizio e la fine perché per non prendere troppo tempo ed è raccontato in prima persona eccolo qui su quest'ora né giusta né sbagliata in cui nella capsula del tempo le ombre diventano cenere su quest'ora contesa nella quale un quartetto d'archi sta provando sinfonie che sanno di eternità ho meditato a lungo caparbiamente prima di alzarmi in volo per raggiungere non udito l'irrequieta riva oltre il cielo e qui alla fine sopra sopra le soffici fontane d'irlanda burbere nuvole blandiscono rettangolo di spessa luce mentre a migliaia lampade ondeggianti in tutti gli idiomi predispongono la rotta verso un guscio ampio di cupole il canto delle sirene si inarca e rompe il tichettante diaframma facendo girare vorticosamente su se stesso l'ago del barometro niente di simile a una melodia piuttosto un coro sommesso una miniatura di voci che si leva dall'una e dall'altra sponda con il fervore di un risveglio come se tutte le mani del mondo mi invocassero ora tiro la tenda blu sento che mi stanno ammaccando le vocali fammi dormire in questo libro tuttavia ho scritto anche un paio di poesie d'amore tanto per non essere sempre così sul tragico e questa è dedicata io credo che tutti abbiamo un rimpianto amoroso e questa è dedicata a un mio rimpianto amoroso a qualcuno che comunque si rifà viva ogni tanto nella mia mente non realmente e c'è questo e fa così Janine la tua bellezza si è rifatta viva sbucando da un or rivestito di piume una bellezza arcana e fiera che sa di Hill e di Dordogne sempre vicina al principio come un treno che si arresta un istante prima di scomparire senza che nessuno possa scendere o salire si è riaffiorata così dopo un tempo ramingo e sussurrante in cui eri diventata una bianca luce attraente travestita da materia una singolare forza di vele dispiegata per scatenare un insaziabile congedo eppure poco fa eravamo qui entrambi a confidarci che non abbiamo mai smesso di pensarci da parte mia ogni giorno grazie grazie allora sì il tempo non è molto ormai ma volevo fare un paio di osservazioni ancora e proprio una leggendo alcuni versi di Tiziano e ripassandogli la palla per il finale una qualità di questo libro e lo abbiamo sentito anche proprio nella poesia d'amore che ci ha letto adesso è che l'io non cade mai nel solipsismo non cade mai nella contemplazione del proprio ombelico o in quegli esercizi di autofiction che oggi sono fin troppo diffusi ma c'è sempre anche l'approdo a una specie di noi e gli elementi della natura diventano elementi di una sorta di sapere collettivo che è messo in discussione dalla situazione attuale della natura e mi è piaciuta molto la metafora del fiume che forse questo collegamento che ho fatto dentro di me con uno degli scrittori dei narratori dei pochi narratori che ho amato veramente nel passaggio tra il novecento e il duemila che è Gianni Celati e una serie di racconti come verso la focce ci sono degli elementi vicini alla tua poesia non so se tu conosci Celati o se è stato un tuo modello però ci sono e questo per me è stato importante per orientarmi meglio all'interno della tua poesia e c'è anche nonostante tu non sia un poeta politico e nemmeno vabbè poi l'altra cosa che condividiamo è l'amore per Varsavia che non è un amore così diffuso ieri raccontavo a un po' di amici che a me piace molto andare a Varsavia e mi hanno guardato a Libiti dicendo Varsavia ma perché invece Varsavia è una città piena di vita di contraddizioni anche di cultura perché a Varsavia c'è uno degli istituti italiani di cultura più frequentato da italianisti molto bravi io sono stato alcune volte e da un gruppo di studenti molto numeroso e molto attento quindi ci sono delle ragioni per amare Varsavia ma al di là di questo e della discesa del privato tu non sei un poeta politico né ideologico però c'è qualcosa di Fortiniano nella tua scrittura c'è proprio questa dimensione allegorica per cui la poesia per te è un esercizio anche di responsabilità civile e appunto di cognizione antropologica mi verrebbe da dire con gadda di cognizione del dolore di tutta un'epoca e di tutta una genia che è quella del mondo occidentale di cui stiamo misurando la crisi e le difficoltà e nel poemetto nella sequenza perché questo è un libro pieno di sequenze articolate e orientate da numeri romani che sono i numeri delle sezioni ma sono anche i numeri di raggruppamenti poetici o poematici all'interno delle sezioni e appunto nel poemetto L'uomo confuso c'è questo incipit sono sei versi li leggo a pagina 73 per chi ha il libro cerca senza trovare nulla oltre le alte finestre e lungo il corridoio dove staziona uno stormo di corvi neri e grevi come una interminabile notte di calma piatta su Gerusalemme ecco qui vabbè ci sono le alte finestre che è una citazione di uno dei più bei libri di un grande poeta inglese Philip Larkin High Windows tradotto molto bene nella bianca di Inaudi da Enrico Testa c'è la citazione del corvo dell'elemento del corvo che è The Raven un poemetto di Edgar Allan Poe che poi non è l'unico corvo della letteratura occidentale ma è un poemetto archetipo che sta alla base del corvo come messaggero anche del negativo e poi c'è Gerusalemme ecco questa poesia questo incipit come lo colleghi alla situazione che poi è esplosa qualche mese dopo la poesia può avere una funzione anche civile è una questione molto controversa ma insomma ti faccio questa domanda in chiusura del tuo intervento poi alla fine mi farebbe piacere se tu leggessi un'ultima poesia io credo che la poesia abbia il compito di raccontare con lealtà tutto ciò che accade nella vita nel tempo che trascorriamo nell'amore in tutto quel che succede e lo deve fare con uno spirito assolutamente superparte se infatti i sorvoli nasce proprio da questa idea di guardare le cose dal lato non per sorvolare e passare oltre ma per approfondirle e concentrarle anzi Gerusalemme mi è stata così suggerita da un bellissimo bellissimo verso di Mandestam Gerusalemme alle tue porte sta arrivando l'angelo nero e questa situazione è sempre stata adesso in modo tragico tragicissimo ma sempre Gerusalemme è stata così minacciata al centro di attenzioni malefiche e mi è piaciuto riproporla qui nel senso che dice Roberto nel senso che un poeta si nutre spesso della poesia anche degli altri non è che rubi anche se uno come Zanzotto ha detto ha affermato magari da me si rubasse quanto io rubato dagli altri però certo questi richiami giustamente e acutamente trovati da Alberto ci sono nella mia poesia non ho mai spinto la mia la mia poesia a parlare in modo deciso di conversi civili della realtà però qualche accenno i momenti di effettivo fervore ci sono stati come in questo con i Corvineri e con Gerusalemme infatti Alberto ha visto giusto ma ritornando al suo discorso su Varsavia io ho scritto una poesia su Varsavia perché sono stato all'istituto di cultura di Varsavia per Poems in the City un anno qualche anno fa ed era un periodo in cui era molto freddo città città che d'inverno è molto fredda Varsavia però allo stesso tempo anche avvolgente quasi amicale e concludo se vuoi leggendo proprio questa poesia dedicata a Varsavia l'aria fredda del nord arriva con guance lucenti e occhi rimpiccioliti qualche lacrima scivola via veloce oltre i cancelli e i tetti delle case che si stringono per mano ospite in Ulika Mazzalcoska saluto l'avvicinarsi delle notte che qui indosso un cappotto d'argento brunito un passante insonne cammina con pesante andatura come se dovesse andare molto lontano i torvi edifici di fronte ai quali ho confidato il suo segreto chiudono fuori appena in tempo la feroce unghia stellare che nonostante i inconvenevoli e i sorrisi si sa benissimo da che parte sta e vi ringrazio grazie grazie a tiziano broggiato grazie della sua generosità e della sua qualità grazie a tutti grazie a tutti